il programma di questa serata e ci sono sono previsti appunto 4 interventi progettuali da programma che avete trovato online c'è anche un video bellissimo di presentazione del del progetto live che di giro adesso è su youtube l'ho mandato in chat potete poi vederlo è un prodotto molto interessante che abbiamo anche trasmesso a livello europeo e dopo questa presentazione faremo un po un colloquio anche con simona sul discorso della custodia delle opportunità che apre a tutti voi e poi ci sarà una conversazione domande eccetera allora inizierei subito con paolo donadoni che è presidente commissario insomma del parco di portofino per noi sempre presidente sindaco di santa margherita ligure e l'abbiamo incontrato con mariangela in una occasione è molto interessante insomma sappiamo del suo amore per la bellezza non potrebbe essere altrimenti per un sindaco che abita sotto il monte di portofino e partire proprio dalla liguria e da quel luogo amato da tutti noi italiani in generale questa icona di bellezza che vede in sé eh diciamo così le cose la cosa più bella che ci sia che per noi naturalmente è l'orchidea quindi eh paolo eh donadoni doate la parola per i saluti poi come ha detto lui e anche per quelli che sono in rete lui ci lascerà alle sette perché ha altri incontri insomma eh istituzionali però lo ringraziamo tantissimo di rimanere fino a quel periodo con noi prego paolo grazie ma grazie anzitutto grazie per la parola grazie a legambiente per aver organizzato questo incontro eh mi sono molto riconoscente penso che sia davvero bello poter presentare e raccontarci insieme reciprocamente questo progetto anche se con le modalità informatiche che sono richieste da questa fase insomma eh niente io posso dire che ecco vorrei dire alcune cose la prima è che il parco di portofino per suo mandato istituzionale promuove la tutela la conservazione della biodiversità no? Eh parola che è già stata citata più volte e credo che sia un onore quello di poter contribuire anche come parco a questo progetto che eh auguriamo ci possa consentire ancora per lungo tempo la presenza di orchidee spontanee sul nostro territorio eh nonostante le iniziali fatiche stiamo cercando insieme al nuovo direttore al vecchio al nuovo personale eh che si adopera con serietà e con impegno di prestare fede a questo compito del parco credo che eh siamo consapevoli che per seguire questo risultato come ente parco eh rappresenti anzitutto a livello istituzionale un importante segnale educativo eh perché un fiore non è soltanto una bellezza da contemplare ma va anche protetto va custodito è un patrimonio della nostra comunità la seconda cosa che vorrei dire è passando da livello istituzionale a quello invece più propriamente individuale è che questo segnale è anche un segnale di responsabilità e di partecipazione per i cittadini perché l'ente parco di Portofino esiste e porta avanti la sua missione ma tutti noi in quanto abitanti di questa terra siamo chiamati a fare la nostra parte e chi oggi è qui in ascolto e adatto o darà la sua disponibilità come guardiano di una di queste specie minacciate diventa testimone e custode della sopravvivenza di un fiore quindi della tutela di un essere vivente e vengo la terza e ultima cosa che vorrei condividere con voi anche in un momento di emergenza sanitaria internazionale come questa credo che non dobbiamo perdere la capacità di conservare una visione generale sul tema del vivente di difendere un presidio di consapevolezza noi viviamo un'era storica che frequentemente viene definita antropocene estinzione antropogenica proprio per sottolineare le gravi responsabilità di squilibrio che l'operato umano che l'operato umano comporta su tutti gli esseri viventi animali piante in senso più ampio anche ciò che vive nell'universo sopra di noi ebbene si parla di una nuova grande estinzione di massa che è determinata dai comportamenti degli esseri umani in questo periodo noi siamo invitati a imparare anzitutto noi stessi e poi a professare agli altri il rispetto o ancor meglio la protezione verso quel 99,7 per cento di biomassa del mondo che genera le condizioni di vita del nostro pianeta un dato che io ho scoperto è che la protezione è un'esperienza superiore a quella umana e che ci insegna come vivere in equilibrio cioè rispettare i protezioni un altro dato che si stima che nell'ultimo decennio ogni anno siano state scoperte almeno 2000 nuove specie vegetali noi veramente conosciamo frequentiamo e studiamo soltanto una piccola parte di ciò che realmente vive di ciò che realmente rappresenta la vita sul nostro pianeta chissà quante specie già si sono estinte senza neppure mai essere vissute nella consapevolezza dell'uomo ecco io di fronte a questi dati penso che il grande pregio anche antropologico è proprio il sapere che il nostro impegnarci per le orchidee vuol dire salvaguardare una unicità della vita sulla terra che coinvolge tutti non ci sono da una parte gli uomini dall'altra le piante ma c'è l'essere vivente in tutte le sue articolazioni e quindi è prezioso salvaguardarlo per noi come per le orchidee e salvaguardare loro vuol dire salvaguardare una parte della vita sulla terra cui noi apparteniamo grazie scusate se mi sono un po dilungato al di là dei doveri istituzionali no ma ma scherza sindaco e presidente anzi è stato un piacere vuol dire è già entrato nel merito delle cose che dobbiamo dirci anche mi ha colpito moltissimo questo aspetto del comportamento del genere umano che aspetta a noi la responsabilità e poi il discorso che faceva sulla difendere il vivente e il presidio di sopravvivenza del vivente direi che non sono stati solo dei saluti anzi è entrato direttamente nel merito dell'argomento che noi vogliamo affrontare e che affrontiamo anche con la bellezza perché è un altro sentimento che mi hanno aiutato tantissimo gli amici in particolare eh Jacopo Calevo che lei conosce benissimo che è il nostro diciamo così eh giovane guru delle questioni delle orchidee che oggi all'università di Napoli che ha lavorato tutto questo progetto adesso ci dirà qualcosa eh Maria Angela ma che è anche un suo concittadino e che insomma mi ha innamorato alla bellezza di di questo fiore perché difendere la vita vuol dire difendere anche la questa bellezza questa forma d'arte incredibile che è la biodiversità quindi grazie tantissimo veramente del suo intervento vi prego e do la parola a Maria Angela Giranda dell'Università di Torino di eh disattenere disattivati i microfoni perché siamo anche in rete Facebook e quindi prestate attenzione prego Maria Angela eccomi allora grazie grazie Marzio grazie a tutti grazie a Paolo Donadoni veramente ha anche ha proprio anticipato alcuni dei contenuti fondamentali del progetto mi chiamo Maria Angela Girlanda eh lavoro all'Università di eh Torino dove da quasi vent'anni mi occupo del di di alcuni aspetti della ecologia delle orchidee e ehm quindi parliamo appunto di queste piante che sono un simbolo di bellezza appunto un simbolo di bellezza al cui fascino veramente è impossibile diciamo restare immuni quindi anche in questa occasione come sempre io mi sono lasciata prendere la mano perché insomma vederle veramente è qualcosa che colpisce ehm come testimoniano queste foto è una delle famiglie che eh non ha praticamente non ha è una famiglia di di piante che non è uguali a pochi uguali perlomeno ehm quanto ha eh varietà no di morfologia fiorale quindi quei come appunto testimoniano queste immagini no come varietà di formi e colori eh e anche dimensioni come nel caso di queste straordinarie lepenthes eh queste che che appunto che vi ho rapidamente fatto vedere sono tutti esempi di orchidee eh tropicali che eh nelle aree di origine hanno come si dice tecnicamente un portamento epifita cioè eh si sviluppano appunto su su tronchi su tronchi di piante arbore a differenza invece delle orchidee della nostra flora della flora italiana che eh sono forse meno meno vistose meno sgargianti delle delle loro eh consorelle tropicali però non meno belle e neanche meno particolari eh anche eh ad esempio qui eh vediamo appunto specie eh del genere orchis in particolare eh il gruppo delle orchis cosiddette antropomorfe eh vedete che i francesi ad esempio sulla sinistra vedete orchis antropofora eh che i francesi chiamano l'ompendue l'omino appeso eh quindi sono anche le nostre orchidee appunto sono piante eh eh speciali eh speciali dal punto di vista della loro bellezza eh sono tutte eh in realtà appunto a differenza delle delle orchidee tropicali che siamo abituati anche a vedere a poter acquistare nei negozi sono tutte eh piante terricole quindi terrestri appunto non 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 epifite e eh appunto rivaleggiano comunque con con le specie tropicali di nuovo quanto a a varietà appunto di dell'aspetto dei loro fiori eh vi vediamo ad esempio spirante spiralis che da noi è una delle specie a fioritura più più tardiva eh questi invece sono esempi di eh Serapias che è un po' particolare appunto quanto a morfologia del fiore o eh anche molto conosciute sono le stupende Ofris in genere in realtà difficilissimo dal dal punto di vista appunto sì della sistematica quindi della classificazione io sono un po' intimidita perché ho visto che ci onora della sua presenza Mario Calbi e quindi che è uno specialista appunto di orchidee della della Liguria e quindi lui potrebbe dire quanto difficile è appunto identificare le diverse specie del genere Ofris e quante discussioni appunto ci siano tra gli esperti anche scusate vediamo di ripristinare eh c'è un un debole suo segnale ecco Mariangela ci sei? Sì 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 ti sentiamo siccome hai la presentazione siccome sei andata via un attimo ti dico magari disattiva la tua telecamera se puoi così intanto vediamo le orchidee e allora solo un secondo perché devo allora come faccio però dalla condivisione adesso però ti vediamo eh se vuoi puoi continuare no volevo però siccome ho il pieno schermo non sono tanto capace no no non preoccuparti devi andare in alto ma continuo così se si interrompe ancora vediamo di provvedere grazie scusateci e grazie prego allora dicevo appunto ricordiamo cioè stavo sottolineando come tutte le specie italiane ma non solo italiane siano piante appunto rigorosamente protette quindi eh tassativamente vietato il commercio ma anche la raccolta di qualsiasi parte della pianta ehm questa mh straordinaria appunto varietà di forme dimensioni colori anche odori in realtà è proprio come sanno appunto gli appassionati di orchidee è proprio una conseguenza delle interazioni che queste piante hanno con gli insetti impullinatori quindi interazioni che sono essenziali no per la per la riproduzione di queste piante e tanto è vero che le orchidee proprio hanno evoluto dei meccanismi molto speciali appunto per interagire con gli insetti che che appunto che visitano i fiori eh ad esempio famosissimi sono il cosiddetto meccanismo di inganno sessuale più tipico appunto di delle specie del genere offris eh nelle quali appunto il labello cioè questo petalo più grosso che sporge verso il basso presenta appunto mh una fo forme colori e addirittura una pelosità tale da proprio riprodurre l'addome della femmina dell'insetto impullinatore quindi il maschio arriva anche perché attirato da questi odori che appunto il fiore produce pensando di incontrare la femmina in realtà visita si carica del polline del polline e eh che trasporterà poi un fiore a un altro fiore quindi attuando l'impullinazione l'impullinazione molto famoso altri orchidei invece mettono in atto altri meccanismi che si chiamano inganno alimentare eccetera eccetera queste interazioni con eh quindi gli insetti pollinatori che ripeto sono appunto fondamentali per la riproduzione di queste piante sono molto conosciute e molto studiate forse è invece meno noto che eh scusate avevo dimenticato anche di dire stavo passando un altro tipo di interazione dimenticando di dire che non è è una relazione che possiamo definire eh di reciproco vantaggio molto spesso perché ehm non è solo diciamo un esempio di sfruttamento degli insetti da parte delle orchidee perché in molti casi ad esempio nel caso di alcune serapies eh il eh il fiore viene utilizzato di notte come un rifugio perché all'interno del fiore da parte dell'insetto per l'insetto all'interno del fiore la temperatura è più alta di quella esterna quindi diversi insetti impollinatori appunto eh si avvantaggiano eh di questo quindi è un'interazione appunto eh spesso di reciproco beneficio un'altra interazione appunto che forse meno conosciuta è quella eh che invece garantisce non solo la riproduzione ma proprio la sopravvivenza di queste piante e la stessa germinazione dei semi perché le eh le eh circa ventottomila specie di questa eh grande famiglia anche della famiglia delle orchidee la famiglia delle orchidacee in realtà condividono tutte una caratteristica che è quella che appunto tecnicamente si chiama eh microspermia ovvero il fatto di produrre semi minuscoli minuscoli sono tra i semi più piccoli prodotti dalle piante fiore che eh infatti eh diciamo eh sono anche definiti semi polvere e eh per il fatto appunto di essere così piccoli i semi delle orchidee mancano pressoché totalmente di sostanze che possano ehm consentire la germinazione del semi stesso allora per poter germinare questi semi eh i semi di tutte le orchidee appunto hanno bisogno di stabilire un'altra relazione simbiotica con eh microrganismi del del suolo in particolare funghi sono quelli di cui io mi occupo da tanti anni io non sono una botanica sono una micologa e eh funghi appunto che eh colonizzano proprio l'interno delle cellule eh dei semi eh quindi portando al al seme acqua e sostanze nutritive necessarie appunto perché il seme possa germinare eh quindi germini eh grazie a questa simbiosi il seme germina e da origine ha uno stadio che in natura non vediamo perché è uno stadio ipogeo quindi una questa struttura che vedete nell'immagine si chiama protocormo che appunto è una fase giovanile dell'orchidea appunto ipogea sotterranea una forma sotto la quale appunto le orchidee possono sopravvivere per anni eh fin tanto che eh poi non sviluppano le parti aeree e fuoriescono dal terreno quindi germinazione dei semi sviluppo del protocormo e sopravvivenza appunto di questo di questa fase di crescita eh richiedono tassativamente appunto questi microrganismi questi funghi simbionti funghi micorrisici allora eh per via di queste molte interazioni no che le orchidee stabiliscono di questa loro stretta dipendenza con altre componenti dell'ecosistema sono considerate tra le piante più minacciate eh più a rischio oggigiorno ieri eh prima Paolo Donadoni appunto faceva riferimento proprio alla crisi eh attuale della biodiversità eh a maggio eh un anno fa eh l'IPBES questa piattaforma questo panel di esperti che eh diciamo eh è stato istituito dall'ONU con lo scopo proprio di censire di fotografare lo stato della biodiversità sul pianeta e in modo da insomma fornire dati che possano eh improntare appunto anche le 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 politiche ambientali eh a maggio scorso dicevo l'IPBES ha pubblicato il più recente appunto rapporto sullo stato della biodiversità del pianeta sulla base appunto delle pubblicazioni eh disponibili e quindi fotografando eh l'evoluzione della situazione negli ultimi eh cinquant'anni e per l'appunto come diceva Paolo Donadoni emerge un quadro di crisi della biodiversità per cui oggigiorno si stima che circa un ottavo di tutte le specie esistenti sul pianeta eh sia a a rischio di sparizione e soprattutto appunto è vero appunto che le le specie nel corso dell'evoluzione si spariscono naturalmente si estinguono però quello che preoccupa tutti oggi è la velocità di questa sparizione perché eh nel corso dell'evoluzione per motivi naturali le specie si stinguono con estrema lentezza mentre la velocità attuale di sparizione è centinaia di volte eh eh superiore a quello che dovrebbe essere eh e appunto no colpevole principale appunto si diceva si diceva prima è l'uomo quindi l'impatto antropico l'effetto delle attività umane dirette quindi i fenomeni come appunto l'urbanizzazione l'agricoltura intensiva e altre attività umane che hanno un impatto diretto ma anche appunto l'impatto indiretto che deriva dal cambiamento climatico di cui ancora una volta come tutti sappiamo è responsabile l'uomo ehm e quindi noi ci inseriamo il nostro progetto si inserisce diciamo in questo contesto eh con l'obiettivo appunto di contrastare l'attuale declino appunto delle orchidee che come dicevo tra le piante sono considerate tra gruppi più a rischio proprio anche eh appunto per via di questa loro doppia estrema dipendenza da altri organismi insetti impollinatori funghi simbionti che sono a loro volta minacciati dal cambiamento urbano quindi eh ci siamo abbiamo adottato questo nome life orchids appunto dove ci proponiamo di contrastare il quello che è il declino in corso appunto del di alcune specie della nostra flora e e eh life perché appunto eh il nostro progetto contribuisce al programma life in particolare al sottoprogramma natura e biodiversità il programma life e lo mh appunto rappresenta che rappresenta l'attuazione eh il sottoprogramma eh natura e biodiversità rappresenta appunto l'attuazione della politica europea in materia di protezione appunto della della biodiversità e quindi è lo strumento attraverso cui la comunità cofinanzia cofinanzia perché non è un pagamento per un servizio ma è un contributo alle spese che bisogna sostenere per appunto salvaguardare la biodiversità e eh ci inseriamo eh quindi all'interno di queste attività e anche all'interno della cosiddetta rete natura duemila che è un insieme appunto di aree protette eh copre nel suo complesso circa un il diciotto per cento quindi quasi un quinto della superficie eh dell'Europa e come diceva Marzio Marzorati nel suo complesso rappresenta la rete coordinata di aree protette più grande del mondo offrendo una quindi un la protezione agli ambienti alle specie più a rischio più a rischio eh specie animali e vegetali eh è un progetto il nostro che coinvolge cinque enti eh tre sono enti di ricerca quindi l'università di Torino a cui io afferisco che capofila eh l'università di Genova e il CREA in particolare la sezione orto di orto di floricoltura eh la sezione di Sanremo partecipano poi eh due enti gestori appunto il parco di Portofino e il parco del povercellese Alessandrino che credo che sia che sia diventato oggi anche a seguito degli accorpamenti che ci sono stati il parco più grande del Piemonte nonché appunto due associazioni due organizzazioni non governative appunto legambiente che la maggiore organizzazione ambientalista italiana non ha bisogno di presentazioni e l'unione cieca eh per la protezione della natura che è un po' il corrispettivo diciamo di legambiente Repubblica cieca poi perché abbiamo coinvolto loro ve lo racconterà Simona e eh quindi ehm il nostro è un progetto iniziato a settembre eh 2018 che proseguirà diciamo godrà di questo cofinanziamento eh dell'unione fino ad agosto 2023 poi dovrà camminare con le sue gambe ehm in particolare noi ci concentriamo su nove specie di orchidee che vedete qua ehm due delle quali eh particolarmente rara estremamente rara eh quella che vedete sulla destra si chiama imantoglossum adriaticum ed è una specie inclusa nel cosiddetto allegato 2 della direttiva habitat eh l'allegato 2 della direttiva habitat è un elenco di specie animali e vegetali eh la cui protezione è considerata appunto prioritaria a livello europeo una specie presente sia in Demonte che Lombardia e invece a sinistra forse quella che è la specie appunto veramente bandiera del nostro progetto è veramente eh una specie molto nostra molto ligure è in effetti uno degli endemismi della della Liguria eh in Liguria appunto ma questo poi magari se ha voglia eh signor Calbi eh potrà 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 dire ecco eh in Liguria appunto eh appunto troviamo una cinquantina di specie inclusi appunto diversi endemismi quindi specie esclusive eh della regione specie o sotto specie eh una decina delle quali appunto considerate particolarmente a rischio eh e senz'altro tra queste eh bisogna nominare appunto Orchis Patens allora Orchis Patens appunto è una specie eh inclusa nella lista rossa delle specie europee una specie molto particolare dal punto di vista della sua distribuzione perché diciamo sotto questo nome appunto nome formale Orchis Patens si indicano piante eh diciamo che ehm troviamo eh alle isole Canarie nel Nord Africa e in alcuni spot della provincia di Genova allora l'esperto appunto lo specialista di Orchis Patens è il nostro Jacopo Calevo che rinominavamo prima eh che eh diciamo ha condotto i suoi studi di dottorato in parte con me a Torino ma anche ehm in co tutela diciamo con ehm collega Michael Mike Faye dei meravigliosi Kew Gardens che ehm si trovano appunto a la periferia di Londra e che diciamo un appassionato di piante non può visitare non può non visitare almeno una volta nella vita vi assicuro che ne vale veramente la pena e quindi attraverso i suoi studi appunto eh in particolare quelli appunto condotti con il nostro collega eh Fei che è lo specialista mondiale proprio di sistematica delle orchidee Jacopo eh si è interessato appunto di eh di questa specie che gli stava proprio a cuore appunto essendo eh essendo lui di Santa Margherita eh e ehm ha svolto tutta una serie appunto di studi genetici su questa pianta confrontando da un punto di di vista genetico le popolazioni presenti in queste tre aree quindi eh isole canarie Nord Africa e e e Genova e provincia di Genova e cosa ha scoperto? Ha scoperto che eh in realtà eh questa eh popolazione diciamo la popolazione delle isole canarie è molto diversa da un punto di vista genetico dalle altre due quindi eh ci sono diciamo dati che consentono di considerarla una specie diversa quindi parleremo quando Jacopo avrà appunto pubblicato i suoi studi parleremo non più di Orchis patens senso lato bensì di Orchis canariensis per indicare queste piante e invece di Orchis patens in senso stretto per indicare quelle che si trovano in Nord Africa appunto e in Liguria e eh con ulteriori studi in realtà Jacopo ha poi successivamente dimostrato che c'è anche una differenza genetica tra la popolazione le popolazioni Nord africane e quelle eh appunto Liguri per cui eh eh appunto la la si tratta in realtà di due sottospecie diverse eh io vi faccio solo vedere rapidamente appunto questa eh questo grafico che illustra appunto le diversità genetiche tra appunto la 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 le popolazioni Liguri e quelle eh nord africane e anche solo dai colori vedete appunto sono molto diverse molto diverse tra l'altro eh e quindi questo cosa vuol dire vuol dire che Orchis patens in senso stretto è proprio una specie appunto molto nostra è proprio una nostra specificità scusate il gioco di parole eh e quindi ehm queste indicazioni genetiche restringono ulteriormente quello che la reale complessivo appunto di Orchis patens e quindi ce la rendono ancora più più cara nel senso che è veramente una specie che esiste proprio solo qui eh solo qui quindi specie bandiera veramente le nove specie appunto non solo le due che su cui mi sono soffermata ma anche le altre sette sono tutte specie eh specie target del nostro progetto sono tutte specie di orchidee tipiche di praterie particolari appunto questo particolari praterie di cui vi parlerà appunto il collega Michele Lonati che tecnicamente vengono indicate come habitat 6210 eh un habitat appunto che è considerato di particolare valore naturalista proprio quando è ricco ricco di orchidee eh ma di questo appunto sentiremo parlare da Michele ehm quali sono gli approcci ehm già da qualche minuto grazie ho finito ho finito gli approcci ehm che il progetto mette in campo per appunto salvare proteggere queste orchidee sono fondamentalmente tre allora il primo è chiaramente di intervenire sullo stato di conservazione dell'habitat di questo habitat di praterie quindi attraverso appunto eh approcci particolari di cui appunto è specialista Michele che ci racconterà e questi interventi si svolgeranno appunto all'interno di aree selezionate dei due parchi il nostro parco del pover Celese Alessandrino e il parco appunto di Portofino eh come abbiamo selezionato queste aree ve lo racconterà eh tra qualche secondo Claudia Turchato e eh sono due parchi molto diversi insomma come evidente a tutti molto diversi da da molti punti di vista due contesti completamente diversi il secondo approccio di progetto è un progetto è un ripopolamento di queste nuove specie attraverso una raccolta di semi eh allora prima ancora diciamo di eh attraverso appunto l'impollinazione eh manuale per eh rinforzare diciamo geneticamente eh le nostre popolazioni questo è un compito appunto in capo all'Università di Genova nel contesto del progetto che è svolto da Claudia stessa comunque lei poi sia a tempo e voglia dire qualcosa di più o può intervenire la professoressa Laura Cornara eh per per dirvi meglio anche perché eh va svolto diciamo facendo attenzione a non creare ibridi ovviamente quindi richiede competenze specifiche eh quindi noi si procede noi procediamo in campo eh alla impollinazione appunto incrociata alla raccolta dei semi questi semi vengono poi fatti germinare in laboratorio quindi in laboratorio questo invece è il compito nel nostro progetto del CREA della sezione di Sanremo del CREA saluto Annalisa Giovannini che magari gli potrà dire di più appunto eh quindi fatti germinare in laboratorio quindi eh piantine allevate vedete i protocormi che vedevamo anche eh prima eh poi successivamente si sviluppano queste plantule che una volta pronte quindi dopo varie fasi acclimatazione eccetera eccetera ma non entro in dettagli sono destinate a essere restituite alla natura all'interno dei due parchi quindi semi raccolti localmente eh fatti germinare in laboratorio eh una volta che hanno raggiunto lo stadio di plantula appunto queste plantule vengono eh sono destinate appunto a essere restituita ai luoghi di origini all'interno in aree di aree protette che noi nel progetto chiamiamo micro riserve quindi aree delimitate protette che costituiscono poi appunto una specie poi di vivaio eh vivaio in pieno campo appunto di queste piante e eh Claudia vi racconterà appunto come abbiamo identificato le aree più idonee all'allestimento di queste micro riserve infine eh qui vedete insomma eh eh la fase diciamo di delimitazione preliminare appunto di queste micro riserve infine terzo approccio terzo per ordine diciamo ma proprio uno dei pilastri fondamentali del progetto uno dei eh degli approcci forse più particolari del nostro progetto eh quello che si chiama appunto la custodia del territorio nel nostro caso la custodia dell'orchidee un approccio di cui esiste una tradizione lunga in altri paesi europei ma eh invece molto meno applicato in Italia ed è eh questo appunto la la parte la parte eh coordinata appunto dalle gambielli quindi eh con questo mi taccio eh mi scuso se mi sono dilungato un po' e grazie grazie dell'attenzione grazie Mariangela Tichi per il tuo intervento molto esaustivo di presentazione del progetto grazie per aver staccato la rete ecco vi chiedo poi se ci sono delle domande anche agli amici e le amiche che sono collegate su Facebook possono formulare le domande poi mi verranno trasmesse direi che hai toccato tutto l'aspetto di presentazione del progetto e voglio rimarcare ancora le cose che dicevi sulla rete europea di tutela noi abbiamo una rete fantastica perché siamo dei popoli fantastici che tutelano insomma questo continente e l'ambiente come eh un bene prezioso e quindi insomma ti ringrazio per aver proprio fatto esplodere tutta la progettazione e anche la forza del partenariato qua voglio dire a tutti che le cose non si fanno da soli è impossibile quindi mettere insieme e lo dico anche come legambiente per noi la partecipazione la ricerca la sperimentazione i parchi gli enti locali è una veramente una sfida per imparare perché si impara nella relazione con gli altri quindi ancora grazie Mariangela ringrazio intanto sempre Michele eh Federico eh di legambiente Liguria che che sta permettendo questo contatto Federico Borromeo che è il direttore e anche Santo Grammatico che è il presidente di legambiente Lombardia che partecipa all'attività progettuali. Bene do ora la prova a Claudia Turchato dell'Università di Genova che entrerà in merito a una delle attività che Mariangela ha toccato molto bene che è la caratteristica delle micro riserve cioè la capacità e la potenzialità che del progetto abbiamo della conservazione della specie e anche di propagazione quindi poi cominciamo a collegarci ad un'attività pratica che i parchi faranno sul loro territorio. Prego Claudia non so se hai una presentazione ecco. Buonasera a tutti è una presentazione che adesso vado a condividere allora io sono una botanica e lavoro all'Università di Genova come consulente in questo caso in questo progetto e mi sono occupata appunto di diversi aspetti certamente di campo e scusate sto cercando di condividere il video ok riuscite tutti a vedere il video a posto? Benissimo grazie Claudia va bene perfetto allora quindi vi andrò a parlare appunto della scelta la caratterizzazione delle micro riserve e anche però dell'area di intervento quindi andiamo subito a vedere qual è la differenza qual è la differenza tra appunto area di intervento e micro riserve. Qui ho messo un'immagine di una cartografia che ho prodotto poi diciamo come appunto come prodotto di una delle azioni e quindi vorrei chiarire appunto qual è la differenza tra OMR quindi orchids micro riserve e aree di intervento. Quindi in questa in questa slide per esempio vediamo che ci sono due diversi poligoni e vedete che il poligono delimitato col giallo si riferisce alle aree di intervento mentre quei piccoli rettangoli rossi sono le OMR quindi già qui capiamo una cosa fondamentale una differenza fondamentale tra le aree di intervento che sono quindi aree molto più ampie che sono anche di diversa estensione e sono localizzate in diversi siti e invece le aree le OMR che sono aree molto più piccole quindi le aree di intervento possono racchiudere le OMR oppure possono non contenerne addirittura. Quindi queste OMR sono proprio aree estremamente vocate per ospitare popolazioni di orchidee e ogni OMR quindi può ospitare una o più specie di orchidee sempre ovviamente con caratteristiche ecologiche simili perché sono comunque delle aree comunque di piccole dimensioni circa 200 metri quadrati ma comunque dimensioni piuttosto variabili. Quindi questo era per chiarire cosa sono diciamo le due aree quindi cosa succede che nelle OMR verranno poi introdotte le specie che vengono poi prodotte dal CREA come vi ha detto Mariangela mentre nelle aree di intervento nelle aree gialle quelle più ampie e vengono fatti interventi di miglioramento degli habitat. Quindi proprio due tipi di interventi abbastanza diversi. Quindi invece in questa slide ho riassunto le attività di campo che verranno realizzate all'interno del progetto. Quindi ho realizzato questo schema per cercare di descrivere singolarmente le attività previste e in qualche modo le loro connessioni temporali. Quindi vedete che una delle prime azioni che sono state portate avanti è appunto la scelta delle aree. Noi quindi andremo ad analizzare ogni diciamo quadratino con delle considerazioni ad hoc. Quindi prima la scelta delle aree poi la loro caratterizzazione dal punto di vista botanico, pedologico eccetera. La realizzazione quindi poi degli interventi che riguardano sostanzialmente l'introduzione di orchidee e il ripristino di habitat come vi è stato già più o meno spiegato da Maria Angela. A sua volta l'introduzione di orchidee in realtà è un processo che viene che è diciamo a valle di tutta una serie di altre attività tra cui appunto l'impollinazione, la raccolta dei semi e la produzione di orchidee. Questo era per cercare di schematizzare un po' le attività del progetto che magari per una persona che non ha chiaro esattamente cosa venga fatto. Queste sono soltanto le attività di campo, poi le attività che vengono realizzate in campo, il laboratorio, poi ci sono tutte ovviamente le attività di comunicazione eccetera. Quindi di questo poi non parlerò. Quindi iniziamo dai criteri di scelta dell'intervento. Dunque, innanzitutto una delle delle criteri più importanti appunto per caratterizzare queste aree è il tipo di proprietà. Le aree infatti devono essere possono essere di diverso tipo, di proprietà diverse, quindi odessine ademagnali, private in gestione ente pubblici oppure anche private. In questo caso sarebbe necessario comunque un accordo appunto con il proprietario sia per la realizzazione di interventi e sia per il loro mantenimento nel tempo. inoltre chiaramente è opportuno identificare degli appezzamenti di terreno già popolati da specie target perché questo significa che l'habitat ha già raggiunto dei livelli di diciamo di insomma ha già ambientalmente molto predisposto appunto per ospitare orchidee quindi facilmente se se ne impiantano delle altre avrà comunque delle caratteristiche ottimali. inoltre anche l'habitat quindi il tipo di ambiente che chiaramente deve caratterizzare questi abitati deve essere di un certo tipo. In ultimo ma non in realtà ultimo è lo di conservazione. Infatti anche se l'habitat diciamo sto sempre parlando quasi sempre di habitat diciamo in accordo con con la direttiva habitat di cui vi ha parlato fino adesso anche Maria Angela quindi la direttiva habitat che prevede una definizione di habitat a livello europeo quindi una caratterizzazione piuttosto precisa. Dicevo che appunto lo stato di conservazione è importante perché anche se l'habitat è presente e favorevole all'insediamento di popolazioni di orchidee esso in realtà potrebbe essere soggetto a dinamiche vegetazionali anche naturali che lo fanno evolvere per esempio verso altri tipi di habitat o altre facces ambientali. Quindi un esempio per esempio sono le praterie aride appunto che sono anche uno degli habitat del target del progetto che nel caso non siano più soggette a pratiche agronomiche come nel caso che si verifica talvolta dell'habitat 6210 se non sono più soggette dicevo a gestione di questo poi vi parlerà nel dettaglio il professor Lonati queste aree quindi necessitano di una gestione attiva che se viene a mancare può portare comunque all'ingressione di arbusti colonizzatori e quindi diciamo un ritorno a una vegetazione climax del bosco e quindi diciamo questo stato di conservazione deve essere precisamente valutato e caratterizzato e scusate mi ha spuntato una richiesta di notazione non so cosa fare posso provare? sì scusate ma è spuntata una una richiesta di scusa? una richiesta di annotazione forse ho toccato io ma è spuntata da qualcun altro però vai vai pure continuo va bene quindi per riassumere diciamo le aree di intervento devono avere una serie di caratteristiche per consentire un lineare corretto sviluppo delle attività seguenti che sono previste da progetto però adesso non va più avanti ok quindi torniamo tornando allo schema di attività parliamo della caratterizzazione delle aree di intervento allora la caratterizzazione è stata fatta inizialmente con la cartolografia della vegetazione che è uno strumento fondamentale sia per decidere il sito di posizionamento delle OMR sia per impostare correttamente gli interventi di miglioramento degli habitat che quindi andranno fatte all'interno di queste aree gialle sento come vi ho detto all'inizio quindi le categorie scelte per la descrizione della vegetazione sono state le vedete qui c'è un esempio nella leggenda sono state piuttosto semplici e anche qui una cosa fondamentale è per esempio segnalare l'eventuale presenza di specie esotiche invasive o comunque specie invasive che possono in qualche modo andare a disturbare poi l'inserimento delle nuove specie di orchidee sia quindi archeofite che neofite un'altra cosa sicuramente importante è anche la valutazione delle popolazioni di orchidee quindi in termini di dimensioni e densità quindi si è provveduto sostanzialmente a contare gli individui delle diverse specie presenti e in qualche modo delimitarne con dei poligoni le superfici inoltre come caratterizzazione di queste aree sono stati svolti dei rilievi fitosociologici che penso che non sappiate cosa sono ma brevemente descrivo sono dei rilievi che servono per annotare tutte le specie botaniche che sono presenti all'interno di una determinata area omogenea dal punto di vista vegetazionale e di esse si annotano quindi sia le specie sia anche la loro copertura e poi si prendono tutta una serie di dati stazionali quindi come la copertura complessiva la copertura arborea la clività l'esposizione l'altitudine eccetera eccetera quindi andiamo avanti sulla realizzazione degli interventi partendo appunto da una delle prime cose che è l'impollinazione delle orchidee che viene fatta vi ha accennato Maria Angela prima viene fatta per evitare che questi che i semi prodotti siano frutto comunque di un'ibridazione che può avvenire in natura ed è molto frequente tra le specie di orchidee e anche per aumentare la produzione di semi successivamente appunto le capsule vengono raccolte quando sono ancora immature e vengono poi consegnate al CREA che si occuperà appunto di fare germinare e produrre le piante successivamente comunque vanno cioè a seguito della realizzazione di queste di queste OMR quindi a seguito dell'emissione di queste nuove plantole di orchidee andrà fatto poi è una cosa che ancora non viene ancora fatta a progetto ma verrà fatto un monitoraggio che ha diversi obiettivi tra cui stimare le variazioni di composizione e ricchezza dei poligoni sia quindi a livello di habitat sia anche valutare l'assetto di conservazione prima e valutare proprio anche l'efficacia delle azioni di ripristino degli habitat anche all'esterno dell'OMR l'ipotesi quindi è che al termine del progetto rispetto alle condizioni per progetto e rispetto ai siti di controllo non interessati da azioni di introduzione si osservino quindi delle differenze in qualche modo più o meno significative in termini di composizione specifica delle specie di abbondanza di copertura e di stato di conservazione in generale dell'habitat nel suo complesso diciamo con quindi particolare attenzione alle specie caratterizzanti io avrei finito e vi ringrazio per l'attenzione e passerei la parola al prossimo relatore non ci sono domande grazie grazie non ci sono domande in questo momento per te rapide vi chiedo poi di segnalarle nel caso così ci torniamo tu sei entrata proprio nel contesto sul terreno diciamo e quindi noi le micro riserve sono un'attività importantissima dei due parchi ma le riserve sono anche all'interno proprio della rete dei custodi che noi vorremmo alimentare e di cui loro sono già dei portatori interessanti di tutela e di conservazione laddove diciamo così si concentrano anche attività di carattere agronomico di come si dice di attenzione di giardinaggio noi abbiamo affrontato molto nel progetto queste questioni perché è evidente che la cura del territorio e la modalità in cui si cura il territorio nella complessità dell'orchidea che è una meraviglia che nella chat ci diceva Maria Angela proprio che sanno questa importanza della rete ci insegnano l'interrelazione del mondo vivente da soli non ce la farebbero mai da sole hanno bisogno di un contesto che la natura offre in base all'evoluzione a come si è creata la selezione e quindi a questa capacità di stare insieme del mondo vivente bene allora su questo il dipartimento di scienze agrarie dell'università di Torino Michele Donati a cui diamo la parola ci parlerà un po' delle pratiche agronomiche il tema non poteva essere più che coerente anche con l'attività progettuale ma anche e soprattutto con i molti ospiti che abbiamo questa sera in questo seminario che vengono dal mondo agronomico quindi molto l'agronomia può fare che cura la produzione di cibo per noi ma che può anche curare nella produzione di cibo la biodiversità la tutela del territorio e tante altre cose che l'agricoltura può fare o tornare a fare in alcuni casi e quindi questa attenzione nel mondo agricolo ci permetterà poi di produrre anche dei materiali che siano utili di indicazione sostanziale per chi custodisce questo bene prezioso che sono le orchidee per farlo deve curare il proprio habitat e per questo che moltissime persone che hanno sono proprietari della terra poi non solo loro saranno chiamati ad essere custodi insomma è importante che aderiscono a questa rete e che possano essere guidati e mantenere questa bellezza quindi Michele per cortesia a te la parola grazie Sì grazie molto allora condivido lo schermo innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato a presentare questi brevi aspetti riguardanti appunto le pratiche agronomiche mi presento velocemente sono un collega dell'Università di Torino di Mariangelo insegno botanica ma in realtà lavoro nella facoltà di agraria quindi sono mi sento più agronomo che non botanico e l'argomento di cui brevemente vi parlerò sono proprio pratiche agronomiche per la salda guardia degli abita tritti di orchidee e volevo richiamare velocemente due concetti che in realtà già Mariangela ha evidenziato cioè che le orchidee hanno questa duplice interazione suolo e quindi biodiversità micologica del suolo e biodiversità legata appunto alla presenza di insetti impollinatori che le rende appunto molto particolari tant'è che sono considerate riconosciute come dei ottimi bioindicatori appunto suolo habitat e la biodiversità nel suolo come ha ricordato Mariangelo è legata alla necessità di avere una flora fungina se così possiamo chiamarla ricca perché i semi germinano solo in presenza appunto di funghi che li microrizzano in fase di germinazione e questo ci servirà poi per capire come molte pratiche agronomiche possono andare a interagire anche negativamente sul suolo tutte le lavorazioni del suolo incidono sui cicli dell'azoto e del carbonio e quindi anche sui funghi presenti nel suolo e poi è già ricordato l'interazione anche con gli insetti gli insetti impollinatori che sono fondamentali solo diciamo che circa un terzo delle orchidee sostanzialmente non produce del nettare che in qualche modo favorisce l'impollinazione ma usano degli inganni è già stato ricordato l'inganno sessuale delle offris che simulano il corpo di apoidei che quindi vanno a impollinare il fiore nel tentativo di accoppiarsi in particolare viene ovviamente un po' replicato l'addome femminile di individui l'inganno è anche favorito dalla produzione di sostanze analoghe ai ferromoni sessuali di questi insetti quindi molto particolare e riguarda in Europa questo tipo di inganno solo il genere offris però capite la specificità su poche specie o generi gli insetti fa sì che se quegli insetti non ci sono nell'ambiente quindi se l'ambiente non è ricco gli insetti l'impollinazione non avviene e quindi la specie è destinata poi a estinguersi la maggior parte delle orchidee di cui parleremo invece usano questo foto di destra un inganno cosiddetto alimentare generalizzato cioè imitano altri fiori questo vuol dire che sia per il colore la forma delle infiorescenze gli stessi profumi emessi dalle orchidee e sfruttano quella diciamo incapacità degli insetti in particolare in primavera gli apoidei di riconoscere piccole differenze e mettere in mezzo agli altri fiori queste orchidee vengono impollinate quindi l'importanza quindi che queste orchidee devono avere una enorme biodiversità che le circonda perché se si trovano isolate da sole senza avere i veri fiori impollinati che producono l'ettere nelle vicinanze praticamente è inefficace l'impollinazione quindi molto importante la biodiversità vegetale che le circonda ecco di orchidee ce ne sono ovviamente tantissime anche da noi colonizzano habitat di tutti i tipi dagli ambienti umili ai boschi anche ambienti di altitudine ci sono orchidee che arrivano anche a 3.000 metri di altitudine quelle di cui vi parlerò io in particolare sono quelle che sono in qualche modo collegate all'agricoltura cioè quelle di praterie poi a rispetto del titolo sconfinerò un po' anche sulle coltivazioni giusto anche per interessare maggiormente gli agronomi che sono presenti ad ascoltare l'habitat diciamo principe che sia stato ricordato sono appunto queste praterie che ricordano nella loro diciamo nel loro nome proprio la presenza di queste stupende fioriture di orchidee anzi la presenza di queste orchidee in queste praterie sono praterie secche dà proprio l'asterisco cioè un carattere di priorità nella salvaguardia a livello europeo e queste praterie qui mi rivolgo di più agli agronomi sono sostanzialmente delle praterie secche a dominanza di bromus erectus una graminea tipica dei prati secchi caratteristiche generali di queste praterie è quello di essere innanzitutto degli habitat secondari cioè sono habitat che sono stati creati dall'uomo a scopo agricolo a discapito del bosco quindi habitat che sono stati disboscati parliamo ovviamente di centinaia di migliaia di anni sono stati utilizzati dall'uomo per la produzione di foraggio quindi con lo sfalcio con il pascolamento quindi l'antropocene che veniva ricordato appunto dal sindaco ha qui un'accezione positiva questi habitat senza l'intervento dell'uomo spariscono e con loro sparisce la biodiversità compresa le orchidee sono praterie poco fertili quindi poco produttive e in effetti sono state tra le prime ad essere abbandonate a seguito proprio dello spopolamento delle aree rurali dopo il secondo dopoguerra lo spopolamento di tutte le zone rurali ha determinato sostanzialmente l'abbandono di tutto ciò che era poco produttivo e questi habitat sono stati in gran parte persi perché ricolonizzati dal bosco in tal senso quindi insomma l'azione dell'uomo qui noi siamo abituati a sentire l'azione dell'uomo come negativo perché distrugge le foreste questo è assolutamente vero ad esempio negli ambienti equatoriali da noi la causa principale di estinzione delle specie in particolare delle orchidee è dovuta proprio all'abbandono delle pratiche agricole tradizionali ecco sconfinando al di fuori di quelle che sono le praterie è interessante notare come molte coltivazioni dagli olivetti ai vigneti siano in condizioni genere esposte a sud perché si tratta di culture termofile abbiano quando condotte in modo tradizionale uno strato erboso riconducibile allo stesso habitat quindi dominanza di bromus erectus ricchezza di orchidee sono un po' diversi i noccioleti o corrileti perché sono caratterizzati da una maggior ombrosità però come vi dicevo le orchidee sono molte e si adattano a ambienti anche molto diversi e ci sono moltissime orchidee tolleranti l'ombra quali ad esempio orchis purpure che vedete nella foto di sinistra oppure anche specie del genere offris ad esempio offris in settifera che sono molto tolleranti l'ombreggiamento e nei noccioleti si ritrovano quindi anche le coltivazioni in noccioleti sono un po' diversi perché non sono così luminosi però possono ospitare specie molto interessanti quali sono queste buone pratiche allora gran parte delle orchidee che popolano queste praterie secche hanno foglie in rosetta sono tendenzialmente specie sempre poco competitive rosette con foglie passate al suolo quindi in linea generale la rimozione dell'erba e anche della lettiera che vuol dire anche gli strati di erba secchi che non sono stati utilizzati sono sempre molto favorevoli rimozione quindi della competizione sia dell'erbaverbe vedete nella foto in basso una rosetta che è già come dire troppo in competizione con l'erba e rimozione anche delle residui delle crescite di erba degli anni precedenti quindi lo sfalcio e il pascolamento è estremamente utile sono tutte vi dicevo praterie magre quindi è raro effettuare tre utilizzazioni in anno se ne fanno uno o due è molto importante però che queste utilizzazioni che siano sfalci meccanici oppure sia il pascolamento ad opere di animali avvengano nei momenti giusti cioè avvengano al di fuori di quello che è il periodo in cui i fusti crescono fioriscono si impollino e fruttificano quindi avvengano dopo la fruttificazione e la maggior parte delle orchidee di queste praterie ha fioritura primaverile quindi occorre diciamo tagliare o pascolare dopo che hanno fruttificato ci sono varie tecniche di pascolamento che possono permettere di ottenere di ottenere questo scopo diversi sono anche gli animali che possono essere utilizzati tipicamente sono ambienti aridi quindi si utilizzano animali rustici gli ovini sono solitamente i più utilizzati meno esigenti infatti di acqua sono interessanti anche gli asini però capite che non ci sono allevamenti di asini che generano un reddito o perlomeno sono situazioni molto strane e particolari anche il numero di animali oltre che al periodo importante gli animali devono essere in equilibrio con la risorsa di erba la devono asportare ma non devono danneggiare il cotico e poi ci sono tutta una serie di aspetti legati alle tecniche di pascolamento quindi in questo schemino io ho indicato la cosiddetta tecnica del pascolamento turnato che vuol dire fare diverse recinzioni gli animali quindi non sono liberi di vagare su tutta la superficie interessata ad orchidee ma mangiano in recinti dove turmano nel tempo questo consente in certi periodi all'erba e quindi anche alle orchidee di crescere in modo indisturbato e si può ad esempio ritardare l'utilizzazione anche a rotazione negli anni nelle aree particolarmente ricche di orchidee per non danneggiarle la non utilizzazione la non utilizzazione che comporta cumulo vedete in questa foto c'è un'orchis diventata da sola questa unica pianta probabilmente non verrà impollinata perché vedete viene meno tutto il contorno di specie simili in genere queste orchidee per ingannare gli impollinatori crescono in gruppi molto numerosi e crescono in mezzo ad altri fiori che attirano e producono netra vedete questa è come se fosse una singola persona abbandonata su un'isola quest'isola è un'isola fatta di biomassa secca vedete la quantità di erbe inutilizzata e arbusti e arbusti che colonizzano una prateria che praticamente è abbandonata quindi è una pianta probabilmente destinata a scomparire proprio per l'abbandono di queste pratiche agricole gli ovini vi dicevo sono sicuramente uno degli animali più interessanti ma per una semplicissima ragione perché adesso andremo un po' su aspetti un po' più agronomici generano un reddito e quindi incentivano l'azienda a pascolare tutto ciò che viene proposto come sfalcio o come pascolamento senza che si genere un reddito chiaramente è un po' avulso dal poter proseguire ormai l'Unione Europea non dà più cioè li dà ancora ma la tendenza sarà quello di dare più denaro a fondo perduto le aziende devono cominciare a pensare che tutti i contributi europei serviranno solo per mettere in piedi un meccanismo in grado di autosostenersi anche economicamente quindi la produzione di agnelli per esempio per un'azienda può essere molto interessante gli ovini come vi dicevo sono un animale molto interessante per pascolare questo tipo di praterie altro aspetto importantissimo sono le concimazioni ovviamente le orchidee non amano ambienti molto fertili questo perché l'erba troppo fertilizzata quindi troppo alta compete troppo con queste rosette che hanno queste foglie apprezzate al terreno vengono soffocate quindi quando le praterie sono usate per la produzione di fieno sempre meglio non eccedere con le concimazioni lo stesso vale per varie tecniche di pascolamento che bisogna far sì che le deiezioni degli animali non si concentrino dove ci sono delle orchidee insomma è molto importante da questo punto di vista l'aspetto tecnico quindi il ruolo del professionista agronomo forestale che consiglia l'azienda e riesce in qualche modo anche a pianificare attività che sono di sua competenza ecco allargando un pochino il discorso quindi andando a andando su quelli che sono i coltivi che possono conservare orchidee direi che le aziende possono diciamo darsi due obiettivi quello più semplice è quello di ripristinare la pulizia delle fasce perimetrali dell'azienda quindi aziende anche molto intensive che adottano al proprio interno pratiche molto intensive che non sono idonee alle orchidee quindi aziende che non ospitano il proprio interno orchidee possono però prendersi diciamo il compito di adottare queste tecniche di rimozione dell'erba o degli arbusti almeno nelle fasce perimetrali che spesso ospitano le orchidee questo chiaramente ha uno svantaggio c'è un costo aggiuntivo per l'azienda ma ha il vantaggio di non modificare completamente gli obiettivi organizzativi dell'azienda stessa importantissimo ovviamente è come vi dicevo non andare a interagire sul ciclo riproduttivo quindi sfalciare o pascolare nel momento giusto ci sono specie più tolleranti l'ombra che vedete qui elencate sulla sinistra specie invece tipicamente amanti la luce che sono più tipiche di vigneti oliveti e ognuna ha i suoi periodi di fioritura la maggior parte delle specie sono piuttosto precoci con alcuni limantoglossum roberzianum è una delle più precoci poi ci sono in realtà sempre a fioritura precoce primaverina un sacco di generi e di specie le epipactis come nella foto centrale sono considerate le più tardive fioriscono a luglio-agosto poi il caso di destra è più un caso particolare a fioritura autunnale ma un'eccezione la spirantes spiralis è l'unico orchidea autotona che fiorisce così tale quindi gli obiettivi aziendali devono un po' come dire confrontarsi con il tipo di specie presenti nei propri terreni quali sono gli obiettivi agronomici non sempre l'erba può essere utilizzata troppo tardi perché perde di qualità e ovviamente trovare un giusto compromesso anche in funzione delle superfici aziendali secondo obiettivo che direi che è decisamente più ambizioso da parte di un'azienda agricola è proprio quello di modificare la propria gestione per conservare anche al proprio interno delle orchidee e qui diciamo io vi riporterò adesso molto brevemente alcune indicazioni tra l'altro queste indicazioni saranno penso nelle prossime settimane nei prossimi mesi e comunque inserite anche all'interno di un manuale che stiamo scrivendo che sarà a disposizione di tutti i custodi anche delle aziende agricole e deriva da non sono delle come dire supposizioni accademiche ma sono casi reali di aziende che abbiamo intervistato purtroppo abbiamo avuto abbiamo fatto più interviste che visite perché il coronavirus non permetteva di muoversi ma abbiamo riassunto tutta una serie di tecniche che alcune aziende adottano proprio per conservare gli orchidee quindi non sono tanto dei suggerimenti ma sono vere e buone pratiche che noi abbiamo appreso da interviste di agricoltori e quindi ne riportiamo ricondividiamo con tutti non abbiamo minimamente idea se queste tecniche applicate a un'azienda intensiva priva di orchidea possono portare la presenza di orchidee nel medio lungo periodo non abbiamo idea di quanto quindi sono tecniche che si possono utilizzare dove già le orchidee sono presenti tra le queste pratiche ovviamente tutte le lavorazioni del terreno come avete intuito sono sconsigliate tutte le rature ripature fresature ma le stesse pratiche ad esempio del sovescio con leguminose che sono tipiche anche dell'agricoltura biologica tutte le volte che andiamo a toccare il terreno facciamo un disastro su quell'aspetto della microrizzazione con i funghi oltretutto sviluppano probabilmente si altera anche il ciclo dell'azoto del carbonio la mineralizzazione della sostanza organica si sviluppano ruderali che sono molto competitive sugli orchidei quindi bisogna mantenere indisturbato il suolo in modo tale che si sviluppi una vegetazione tipo brometo ovviamente da evitare l'uso di diservanti anche il rinnovo delle piante morte o non produttive ad esempio un agricoltore che ha un vigneto ricchissimo di orchidee ci ha detto che lui sostituisce circa il 3% delle piante ogni anno ovviamente non può avvenire con uno scasso completo del terreno come avviene tradizionalmente ma si fa localmente pianta per pianta senza andare a disturbare il terreno circostante chiaramente è molto interessante la conservazione ad esempio dei vigneti di antica concezione quelli diciamo che hanno gli interfilari di un metro metro e venti sono tutti inerviti ricchissimi di orchidee e questi vigneti chiaramente hanno un difetto non sono meccanizzabili o meglio non sono meccanizzabili secondo quella che è la concezione di meccanizzazione attuale che vede i filari distanti due metri due metri e venti questo per fare un esempio sui vigneti poi l'erba va esattamente asportata come dicevamo usando mezze vigere che non compattino il terreno i più complicati sono i vigneti perché i vigneti se si fanno i primi trattamenti spesso è consigliato di sfalciare in modo che il primo trattamento sul vigneto non vada a interagire con la flora e la fauna in pollinatrice presente negli interfilari solitamente invece negli olivetti non c'è un grosso problema a ritardare lo sfalcio anche a luglio o oltre una delle tecniche che abbiamo scoperto adottano alcuni di questi agricoltori quello di schivare i nuclei di orchidee loro ovviamente decespugliano con un decespugliatore spalleggiato vi ricordo che schivare i nuclei in ogni caso compromette un po' quel meccanismo di confusione nei confronti degli insetti impollinatori perché se restano solo le orchidee senza null'altro intorno perché abbiamo sfalciato l'erba chiaramente il meccanismo viene un pochino a meno ovviamente è sempre bene rimuovere l'erba tagliata e quando l'erba non ha alcuna funzione produttiva per l'azienda si può ad esempio rastrellare e moltissimi degli intervistati ci confermava che rastrellare e quindi togliere l'erba ha un effetto molto positivo su orchidee oppure concentrarle sulla fila in modo da lasciare diciamo libere le interfile dove le orchidee possono svilupparsi un aspetto molto particolare è quello delle concimazioni le concimazioni diffuse in tutte queste colture sono negative ce lo confermavano gli stessi agricoltori una delle tecniche che abbiamo capito essere la più diciamo adatta alla convivenza con le orchidee e quella con una zappa o un palanchino fare ogni tanto dei buchi e riempirli di concimi organici e chiuderli con lo stesso attrezzo questo ovviamente va fatto vicino alle piante sulle file e evitando di spargere in modo diffuso il concime anche organico altrimenti l'erba cresce e le orchidee per competizione tendono a sparire e poi ci sono tutta una serie di accorgimenti che sono volti ad aumentare la biodiversità in generale ridurre il più possibile l'uso di fitofarmaci pose di cassette nidi di cosiddetti hotel per insetti ma anche tutto il mantenimento di quella diversità ambientale aziendale dei siepi piccole zone umide ciglioni inerviti prati nelle vicinanze per favorire quella biodiversità di insetti e di animali che comunque nel complesso sono favorevoli alla coesistenza delle orchidee concludo con qualche aspetto puramente forse logistico agronomico è chiaro che un agricoltore che custodisce orchidee produce qualcosa che potremmo definire più che biologico perché molti sentendo queste buone pratiche hanno intuito ma sì ci avviciniamo a quello che è l'applicazione dell'agricoltura biologica allora al di là di qualunque marchio molti sappiamo agricoltori producono biologico ma non hanno il marchio perché poi l'iter burocratico spesso è anche complesso ma chi ha orchidee fa qualcosa in più dell'agricoltura biologica sempre con una finalità anche più ampia a favore di ambiente e salute umana ma anche della qualità dei prodotti ecco che allora chi ha orchidee deve affrontare costi di gestione più elevata o prodotti cioè produzioni un pochino più ridotte non si può spingere sulle fertilizzazioni per esempio ecco che allora è necessario valorizzare la presenza delle orchidee nei propri terreni attraverso delle integrazioni dei redditi ad esempio spostandosi su un turismo turismo che oggi ha sempre più presa sul pubblico perché il pubblico è diventato anche più esigente sono delle nicchie di mercato un po' particolari e soprattutto sul mercato estero ci sono i cammin mangiando lo stesso consumatore cioè colui che anche non ha un terreno ma va in azienda a comprare dei prodotti oppure va anche solo a fare la passeggiata ma nel corso di quella passeggiata si porta a casa un cartone di olio o di bottiglie di vino diventa lui stesso custode perché in qualche modo con la sua scelta di acquistare in un'azienda che produce vari servizi ecosistemici di cui l'orchidea fa un po' da simbolo di per sé favorisce quel tipo di agricoltura e diventa lui stesso custode anche se fisicamente non è proprietario di un appezzamento di terreno e se andate su google e scrivete due parole chiave visto che guidate orchidee troverete che di attività sulle orchidee ce ne sono tantissime quindi io adesso concludo vi ho già rubato forse fin troppo tempo la valorizzazione delle orchidee va ben studiata anche da un punto di vista diciamo dell'attività che gli stessi professionisti svolgono sul territorio sono attività in cui si integrano aziende fruitori ma anche i pianificatori che progettano le strutture ricettive oppure le collaborazioni tra le strutture ricettive esistenti realizzano i percorsi naturalistici organizzano eventi naturalistici storico è tutto intrecciato intorno a quello che i servizi ecosistemici della presenza di orchidee di biodiversità in generale possono portare l'accompagnamento di gruppi di persone che visitano l'azienda e possono anche pagare il biglietto acquistando dei prodotti in azienda per esempio e la collaborazione con le comunità locali perché appunto la necessità di differenziare sul mercato le attività di queste aziende è molto importante per dare loro quel reddito che in qualche modo deve compensare la perdita diciamo tra virgolette produttiva che si hanno adottando queste tecniche particolari io con questo direi che vi posso veramente ringraziare dell'attenzione grazie grazie mille a Michele Lonati di questo suo intervento che abbiamo visto un po' stabilisce anche i rapporti nuovi tra mondo della biodiversità e mondo dell'agricoltura tu hai detto bene anche prima dicendo che per l'Europa e per noi alcune pratiche agricole un modo di fare agricoltura forse diciamo così prima della meccanizzazione l'industrializzazione e dell'utilizzo così estensivo della chimica l'agricoltura ha svolto un lavoro importantissimo di tutela dei territori del paesaggio e quindi anche della biodiversità ma credo che in parte lo faccia ancora forse è una politica dei sussidi così eccessivamente protesa verso la produttività e non la qualità che ha prodotto insomma delle situazioni di abbassamento della biodiversità e anche di pregiudicare la biodiversità in ambito agricolo quindi a me fa piacere tantissimo a noi ambientalisti in particolare perché con Simona abbiamo sempre detto la biodiversità può essere tutelata solo se c'è una nuova alleanza col mondo agricolo cioè con le persone che curano la terra e che ci alimentano cioè tornare all'origine anche di un rapporto più sano più chiaro e anche più sostenuto del mondo agricolo verso la sua conservazione intanto ringrazio e quindi scusami Michele mi sembra che tu hai detto il manuale che farete è un manuale molto importante per i custodi perché non è un manuale diciamo così solo teorico per chi studia l'argomento ma è un manuale che traccia dall'esperienza delle persone delle modalità delle pratiche agronomiche così mi sembra di aver capito no? Certo sì sì adesso magari Angela vi sa dare qualche informazione in più però tendenzialmente lo scopo del manuale è questo condividere le esperienze dei custodi in modo tale da rispondere alle domande che spesso uno si fa cosa faccio di quel terreno allora l'insieme di queste interviste ha dato diciamo la risposta a molti quesiti che erano dei quesiti anche per noi questo è il modo anche della ricercazione della modalità che ci entusiasmano insomma di questi progetti europei tra l'altro ringrazio il sindaco il presidente del parco di Portofino Paolo Donadoni che ancora con noi ha fatto anche un altro incontro quindi questa cosa qui degli incontri online è veramente stressante lo ringraziamo davvero si sta avvicinando anche un'ora particolarmente tarda nonostante questo siamo ancora in molti ricordo agli agronomi che non l'abbiano fatto di inviare il loro codice abbiamo poi alcune domande siamo sempre su facebook darei la parola a ora a Simona Colombo per insomma descriverci il centro di questo seminario alla fine che è la custodia cioè come noi possiamo partecipare come voi potete partecipare a questo progetto prego Simona sì allora faccio una cosa veramente veloce perché è uno come uno spot pubblicitario cioè partendo un po' anche da tutto quello che è stato detto diciamo che l'obiettivo della custodia in questo caso di Orchidee è quello proprio di creare una rete se ne è parlato in tutti gli interventi di rete e quindi il discorso di rete quello che noi vogliamo lanciare è proprio un coinvolgimento dei privati di tutti quindi dei cittadini nella conservazione del territorio perché comunque già dai dati che ha dato Mariangela sulla rete Natura 2000 che è la rete più grande d'Europa di conservazione anche Angelo Sassi che è il referente dei progetti LIFE nella commissione a livello europeo ha proprio detto che sembra che il 50% siano privati queste aree quindi si capisce che è evidente che se non c'è un'alleanza con i proprietari di terreni l'ente pubblico non può fare nulla perché se la proprietà è privata e il privato non è d'accordo la conservazione si ferma e quindi la custodia delle orchidee quindi anche in un certo senso degli habitat della biodiversità in generale è quella proprio di avere i proprietari sia privati che pubblici come alleati nella conservazione del territorio quindi proprio creare delle alleanze creare una rete dove in questo caso il privato diventa protagonista cioè diventa protagonista della conservazione e diciamo che non è come visto in tanti casi una persona che subisce i vincoli magari del lente pubblico ma diventa anche lui attivo nella conservazione è chiaro che quello che muove i custodi che io vedo che alcuni di custodi di orchidee ci sono stasera e tra l'altro qualcuno ha anche l'orchis patens nel proprio terreno e quindi questi custodi è chiaro lo fanno per una questione di emozione di passione e poi è chiaro che si può anche pensare all'aspetto diciamo economico questo è evidente ad esempio negli aziende agricole ma sicuramente quello che muove proprio la passione nella cura e nella conservazione e quindi quello che noi abbiamo creato stiamo creando è una rete di persone che vogliono aiutarci in questa conservazione come farlo? sul sito si può trovare anche un questionario online da compilare e noi poi invieremo anche un accordo perché essendo un progetto europeo è chiaro il progetto europeo comporta anche delle formalità da rispettare e quindi diciamo che l'accordo di custodia diventa anche un accordo scritto dove c'è una testimonianza che la persona viene coinvolta e dice io mi prendo cura in impegno a conservare il mio territorio quello che poi abbiamo visto poi poi concludo è anche che comunque c'è tutto un mondo di persone che noi chiamiamo senza terra di persone appassionate che vogliono fare qualcosa che vogliono fare il passaparola quindi coinvolgere magari chi ha la terra e che quindi vuole convincerlo a diventare custode e quindi abbiamo pensato di anche costruire una rete di quelli che potremmo chiamare promotori della custodia di orchidee cioè persone che ci possono aiutare nel coinvolgere il più possibile i proprietari dei terreni e questa l'idea è di fare anche però una cosa molto più leggera diciamo di un accordo scritto ma creeremo un modulo online dove ci si può iscrivere e dire bene io divento promotore della custodia tante domande che ci hanno fatto sulla custodia e da tanti anche ci dicono ma uno cosa detto proprio brutalmente cosa ci guadagna cioè in realtà quello che ci si guadagna è chiaro una soddisfazione anche personale di poter contribuire alla conservazione del proprio territorio ma anche ad esempio in comunicazione promozione ad esempio io penso alle aziende agricole come diceva anche prima Michele Lonati il fatto di diventare un'azienda agricola con multifunzione quindi multifunzionalità è chiaro che inserire anche un chiamiamolo un logo di qualità dicendo io sono custodio di orchidee dà un valore aggiunto sicuramente all'azienda e quindi l'idea è anche di aiutare e comunque di promuovere chi si impegna con noi col progetto alla conservazione del territorio questo è un po' brevemente quello che stiamo pensando e promuovendo pensiamo a metà giugno di fare un incontro dedicato proprio alla custodia ai custodi con la presentazione del manuale poi chi è interessato a approfondire proprio il tema della custodia poi magari ci riaggiorniamo a metà giugno Simona comunque nessun custode dovrà pagare più tasse se aderisci a questa rete no? ma in teoria no addirittura ci sono delle esperienze in Catalogna dove addirittura la regione ha dato degli sgravi fiscali perché è custode del territorio quindi ad esempio ci sono proprio degli incentivi delle defiscalizzazioni in alcune parti d'Europa proprio al fatto dei privati che aiutano nella tutela del territorio o l'ente pubblico quindi là sono all'opposto diciamo più tasse per chi conserva beh la Catalogna sappiamo è molto avanti anche nei processi di autonomia ma questo è interessante lo dico al Presidente del Parco perché nello stile diciamo del finanziamento europeo oggi i finanziamenti europei Simona vanno verso gli enti pubblici il che è giusto perché i soldi dell'Unione Europea sono soldi pubblici devono alimentare la rete pubblica però in molti casi come questo quando un proprietario privato accetta delle condizioni di tutela della biodiversità svolge un compito pubblico una sua funzione pubblica perché tutelare la biodiversità vuol dire aderire a un progetto pubblico potrebbe essere anche nel futuro sostenuto da finanziamenti pubblici così come avviene in tantissimi casi dell'economia e quindi dell'interrelazione tra pubblico e privato credo sì poi appunto anche a livello europeo comunque ad esempio anche nel programma Life appunto Angelo Sassi aveva proprio un incontro che ha organizzato adesso ha proprio sottolineato il fatto che anche loro a livello europeo stanno cercando di capire come poter finanziare anche i privati nella conservazione del territorio che adesso è della biodiversità che adesso è comunque molto legato e anzi solo legato all'ente pubblico e quindi comunque anche a livello europeo hanno capito comunque cioè si capisce l'importanza del ruolo di un soggetto privato nella tutela dell'ambiente questo ormai si sta avendo stessa cosa poi chiudo con il nostro partner della Repubblica Ceca perché come diceva prima Mariangela diciamo anche la Repubblica Ceca ha un'esperienza di molti anni anche di decennale proprio di collaborazione di alleanza tra ente pubblico ente privato associazione per la pianificazione e la conservazione del territorio e quindi insieme a loro l'idea proprio di scambiare esperienze proprio anche a livello europeo per poter diciamo pensare in modo strategico e sinergico con la dimensione europea ecco bene benissimo quindi troverete nel sito ve l'avevamo mandato prima però Life Orchids è indimenticabile troverete tutte le indicazioni per poter aderire al progetto della custodia a partecipare ai vari corsi a ricevere informazioni insomma essere un po' accuditi in questo percorso che è molto sperimentale in Italia e che credo che potrà essere veramente di grande vantaggio non solo alla natura ma anche a tutti noi abbiamo alcune domande che rivolgo in particolare ai relatori che avete visto in chat ma un po' le ripeto Manuela Sadotti ci dice nel mio terreno io faccio tutte le domande prendete appunti voi che siete intervenuti per vedere chi vuole rispondere allora Manuela Sadotti ci dice nel mio terreno sono presenti animali selvatici cinghiali che rovinano il terreno le piante lo chiede cosa fare consigli infatti Michele Lonati lo ha poi detto non abbiamo parlato proprio dei cinghiali che è un problema di uso in Piemonte e Lombardia l'unico sistema qua dice lui è la recinzione ma lasciamo rispondere a lui poi dopo Angela Cormenale Pinto dice che si prenota per un intervento quindi alla fine delle risposte se vuole intervenire dopo che io ho finito per fare la sua domanda Giuseppe Herrera anche io vorrei fare alcune domande lo invito a intervenire e invece Daniela Ferrante e degli ordini degli agronomi devono interagire con altre figure per tutelare il nostro territorio quindi gli agronomi devono interagire con altre figure per tutelare il nostro territorio mi sembra che il nostro progetto sia un po' un esempio e per finire con relazioni tra orchidee e tartufi in particolare quindi chiedo se ci sono indicazioni su questo quindi invito prima di dare la parola ai redattori ci sono ancora con noi Angela Cormenale Pinto e Giuseppe Herrera a staccare il microfono a fare le domande direttamente brevi grazie allora io intanto grazie per questi interventi che sono stati interessantissimi e vorrei confermare al professor Lonati che in effetti le tecniche di economia sostenibile favoriscono le orchidee ma favoriscono anche la fertilità del suono e la biodiversità animale relative ai microastropodi che determina poi la qualità biologica del suono non sono molto recenti queste determinazioni adesso si fanno la fortuna l'altra cosa che io volevo dire è che insegnando in una scuola agraria credo che potrebbe essere molto utile un campo catalogo una collezione di orchidee spontanee in collaborazione con l'università di Torino di Genova perché sicuramente si possono conservare queste meravigliose orchidee anche diffondendone il più possibile la conoscenza e dato che noi riceviamo anche tante visite facciamo parte del festival della scienza eccetera diffonderne la conoscenza può essere un modo molto utile per conservare le specie benissimo grazie un intervento puntuale mi sembra che abbia toccato questa cosa come hai chiamato Angela? come hai chiamato la fertilità del suolo? no no questo manuale questo almanacco questa questa possibilità di avere le fotografie dicevi tu no non le fotografie io propongo un campo catalogo con le piante vive fantastico certo nell'ambito dell'azienda agricola dell'istituto Marsano di Sant'Ilario a Genova perché è un luogo dove sicuramente si possono ambientare grazie grazie scusa avevo perso alcuni passaggi tu hai giuseppe se ci sei ancora con noi ciao a tutti scusate non riuscivo ho tenuto spesso perché non funziona tantissimo la linea le questioni sono sostanzialmente tre io lavoro molto negli olivetti devo dire che ho incontrato spesso in Liguria tantissima presenza grazie anche a un inerbimento permanente degli olivetti diciamo così con la nostra tipologia di agricoltura diciamo meno intensiva sotto certi aspetti di altre parti tra altre cose condivido la questione che diceva la Comenale prima potrebbe essere anche interessante veramente quella che è una tipologia di conservazione ex situ come campo catalogo all'interno della zona di Sant'Ilario perché anche lì la presenza è estremamente ampia sono alcune questioni di carattere anche magari di mettersi in coordinamento anche con le iniziative che fate voi ma soprattutto abbiamo avuto una descrizione di tipo sommario legato alle pratiche culturali in effetti ci sarebbe poi da definire magari delle linee guida essenziali per mantenerlo nei vari ambiti di coltivazione particolarmente insomma seguori vigneti dove per fortuna la conservazione dell'innerbimento permanente è sostanziale per questo la seconda questione è la parte di comunicazione uno è la presenza delle cosiddette fattorie didattiche che è un ruolo connesso all'agricoltura e legato quindi alla divulgazione alla formazione purtroppo troppo spesso relegato a ambiti diciamo così formativi solo esclusivamente per la diciamo le giovanissime generazioni mi riferisco in particolare alla scuola elementare e se va bene alle scuole medie scusate scusate ecco parte sempre il telefono nel momento sbagliato ma ad esempio nell'ambito dei pacchetti di formazione delle fattorie didattiche l'Iguri ambiti diciamo culturali e anche scientifici anche correlati a diverse tipologie di fruttori alle scuole secondarie a percorsi di formazione anche in interrelazione universitaria che potrebbero avvantaggiare anche in queste attività connesse alla fruizione e conoscenza del territorio sarebbero necessari purtroppo non sono magari nella conoscenza e capacità dirette dell'agricoltore ma un'iniziativa tipo questo live potrebbe promuoverle anche come diciamo meccanismo di conoscenza meccanismo di diciamo divulgazione mettendo anche in correlazione le figure che possono poi permettere la cosa la connesa questo c'è la parte di favorire in ogni modo la agricoltori conservatori e su questo ora sarebbe da analizzare anche diciamo così quelli che sono le politiche agricole comunitarie che già in molti ambiti sviluppano queste tipologie diciamo contributive anche per favorire aree ecologiche piuttosto che zone umide eccetera ma l'esigenza è proprio anche di far capire molto bene all'agricoltore che non sempre ma è diciamo devo lavorare ok la capacità cioè da avere fornire gli elementi di comunicazione della biodiversità cioè far comunicare molto spesso magari ne ha la conoscenza sa che ci sono ma non riesce a comunicare sia la parte diciamo tecnica ma soprattutto quella che è la parte emozionale di queste cose grazie grazie Giuseppe scusa ma stiamo chiudendo una somma di vari sei stato interessantissimo anzi stimolante tutto quello che hai detto legato al discorso dell'agricoltura non so dei relatori che volesse un po' rispondere c'è anche una domanda sullo sfalcio se può essere fatto il modo diverso per fare lo sfalcio se qualcuno è sollecitato dei relatori posso rispondere io dello sfalcio Michele grazie sì allora il fatto di rilasciare l'erba sfalciata terra la risposta è dipende perché allora se l'ambiente è molto caldo e l'erba tagliata mineralizza velocemente praticamente sparisce se invece l'erba non mineralizza e si accumula negli anni chiaramente uno strato spesso di lettiera è sfavorevole allora il consiglio noi ecco non abbiamo fatto delle prove sperimentali però uno dei nostri diciamo custodi ci ha confermato che lui alcuni anni rastrellava l'erba parlava di oliveti lui e in altri anni non rastrellava e la differenza a suo modo di vedere si vedeva quindi uno dei consigli che potrei darvi è fatene metà rastrellata e metà no rastrellata vuol dire accumularla magari in prossimità delle piante coltivate dopo un paio danno e uno vede la differenza e decide se ne vale la pena grazie quindi anche qua come si può dire bisogna essere come si dico pragmatici e vedere cosa succede insomma e quindi anche anche qua il progetto può accompagnare perché dalle informazioni che si hanno sui terreni sulle specie può come si può dire servire ricordava un po' Simona anche che il manuale la rete di esperienze possono aiutarci tantissimo e quindi il progetto non dà non so come dirvi non credo che dia le verità assolute abbiamo visto che è una ricerca continua nel territorio con voi quindi voi diventerete un po' una ricerca scientifica applicata al territorio e ci permetterete permetterete il progetto di verificare cosa succede e perché i suoli sono diversi le realtà cambiano quindi è molto interessante perché la vostra parlo per i custodi ma anche a tutti gli agronomi che si sono uniti a noi che sono interessati a questo discorso della biodiversità diventerà un elemento propositivo per il progetto ecco non vorrei voglio dire se Paolo Donadoni vuole salutarci di due parole è stato molto come si può dire preciso nella sua saluti che anzi hanno introdotto un po' i temi della biodiversità quindi una battuta per dire che è rimasto con noi fino ad ora grazie guarda Marzio io sono tornato davvero molto volentieri perché i temi erano interessanti quindi mi faceva piacere poter riprendere ancora una parte del dibattito devo dire che posso chiudere soltanto ringraziando a titolo personale credo a nome di tutti i partecipanti per aver organizzato questo momento informativo e formativo che ci ha raccontato di un progetto a cui davvero tanti partecipano e che è un caso virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato cioè è bello pensare che per il salvaguardio di un essere vivente della bellezza di un'orchidea in tante tipologie diverse collaborino non solo gli enti ma anche così tante persone grazie alla intermediazione di lega ambiente che si fa portatrice di questi valori condivisi quindi esprimo soltanto il mio ringraziamento per come dire l'importanza di questo incontro che ci rende consapevoli di quello che tanti stanno facendo grazie anche qua poi ho delle parole di riconoscimento anche alla nostra associazione ti ringraziamo veramente tanto insomma i riconoscimenti in questo momento di austerità generale di lontananza sono importanti per rincuorarci ma soprattutto so che vengono dalla tua esperienza territoriale e quindi avere i complimenti di un sindaco di un presidente è veramente molto significativo auspicchiamo di rivederci a Santa Margherita Ligure con l'idea di fare un grande convegno sulla bellezza della biodiversità cioè la tua città deve diventare il centro del fatto che la più bella forma d'arte è la biodiversità cioè la prima a cui noi tutti ci colleghiamo e non voglio citare insomma chi l'ha imitata e come noi possiamo trarne vantaggio Simona scusa vuoi dire qualcosa per concludere un po' questa cosa poi faccio i ringraziamenti finali e ci lasciamo perché è arrivata ora di cena insomma prego Simona dimmi scusa Simona scusa volevo solo dire che appunto sono Mariangela ecco la l'idea avevo perso dal video prego Mariangela ah scusa è giusto mi mostro di nuovo allora volevo solo dire che appunto vista l'ora non riusciamo neanche a rispondere a tutte le domande quindi scriveteci noi più che volentieri appunto abbiamo due indirizzi di riferimento del progetto che trovate sul sito uno appunto anzi due per inerente le questioni che ruotano intorno appunto al discorso della custodia quindi sono Simona adesso li dice Liguria custodia non me lo ricordo comunque si trova sul sito uno e invece un indirizzo generale un indirizzo mail generale che per tutti gli altri tipi di informazione quindi anche rispetto che so appunto alle domande alle quali non abbiamo il tempo di rispondere insomma saremo più che lieti di rispondervi via mail scusa Simona Maria Angela no ma tra l'altro sul sito trovate anche l'iscrizione alla newsletter che potrete compilare quindi vi arriveranno gli aggiornamenti Simona prego solo concludere va bene allora ringraziando tutti per essere per aver partecipato e e anche di aver perché alcuni vedendo anche quello che è scritto avendo capito anche diciamo anche l'efficacia e le potenzialità che ha che ha questo progetto e anche tutti i mille risvolti che potrà avere partendo dalle scuole dalla comunicazione e quindi stiamo cercando di partendo dai limiti di budget perché purtroppo bisogna far conti anche quelli del progetto veramente a fare veramente un effetto volano con tutte le con tutte le relazioni che stanno nascendo per poter comunque essere puntuali anche in tutta Italia perché noi stiamo ricevendo contati da da tutta Italia e quindi devo dire che è veramente un piacere ma soprattutto stimolante perché si vede come dappertutto c'è questa passione che muove le aziende agricole che muove il fotografo naturalista che muove l'appassionata che muove che ha un bellissimo giardino che ha un piccolo giardino e quindi quello che abbiamo anche detto comunque che anche ma tanti l'hanno citato è proprio questo piacere nel fare qualcosa per la biodiversità quindi proprio farlo proprio perché è una società soddisfazione anche personale di poter fare poter fare qualcosa quello che abbiamo visto anche in questa fase emergenziale è stato anche quello che noi abbiamo lanciato un appello dicendo in particolare i custodi ma un po' tutti quelli che avevano la possibilità di avere di fronte a casa comunque in giardino o in prossimità delle orchidee visto che i ricercatori non potevano uscire nessuno poteva uscire a vedere le fioriture abbiamo mandato questo appello dicendo ma fateci vedere cosa sta succedendo un po' in tutta Italia come stanno fiorendo perché noi non possiamo vedere la fioritura delle orchidee e ci stanno arrivando veramente tante foto le stiamo pubblicando ma siamo in arretrato nel senso che ne abbiamo già pronte a tante altre di persone che ci stanno mandando le foto dicendo questa è la fioritura che ho nel mio terreno questa è la fioritura che è nel mio giardino e comunque chi le ha mandate non si preoccupi che piano piano le stiamo pubblicando tutte su Instagram su Facebook adesso ci saranno anche i collegamenti sul sito quindi avrete la possibilità di vedere le orchidee da parte di cittadini appassionati come noi grazie Simona davvero di questa conclusione devo dire che in questo periodo della nostra del lockdown abbiamo vissuto io o meno migliaia migliaia di foto di amici della natura che stava fuori dalla finestra dei parchi chiusi quindi non ho mai visto così tante foto di alberi di fiori perché poi era primavera ci sono persone che hanno fotografato le gemme da fino alla fine insomma e poi naturalmente di animali domestici di animali insomma c'è stata veramente un'affettività e anche affettività nostra delle famiglie quindi prendiamo il positivo di questi mesi che ci hanno permesso anche di rallentare un po' allora io ringrazio nel dolore naturalmente di tantissime persone che hanno sofferto non dimentichiamolo mai perché è stato un periodo e speriamo che non duri per molto ancora ringrazio naturalmente la rete dei partenariati il parco di Portofino in primis ma poi il parco del vercellese Alessandrino del lato piemontese l'università degli studi di Genova l'università degli studi di Torino il CREA i nostri partner della Secop in Repubblica Ceca che lavorano con noi e naturalmente tutto il programma live che sostiene la nostra iniziativa infine ringrazio noi siamo stati su Facebook tutti quelli che hanno un po' seguito la nostra iniziativa questa sera la Lega Ambiente Liguria che ci ha permesso insomma e credo sarà un punto di riferimento per tutti voi quindi Federico Borromeo che è il direttore Santo Grammatico che è il presidente e ringrazio il nostro Federico che è il servizio civile della Lega Ambiente Lombardia che ha curato un po' tutti questi collegamenti che soprattutto ci cura parte social in maniera molto entusiasta tutta la rete dei sostenitori e come ha detto Simona mantenetevi in contatto perché noi chi ha la terra può diventare custode e chi non ha la terra può diventare amico volontario di questa grande rete privata ma legata agli enti pubblici e quindi solidale con chi come gli enti parco tutela la biodiversità e le università che fanno ricerca io vi ringrazio ringrazio a nome di tutto il partenariato vi auguro buon appetito e buona serata grazie a tutti di essere stata con noi siete tantissimi ancora 44 nonostante sia molto tarda grazie agli agronomi scusate indiremo le certificazioni ci avete inviato i vostri codici nella chat e quindi riceverete i crediti cui siamo abilitati per questo tipo di seminario grazie ancora tantissimo di essere stati con noi buona serata ciao a tutti ciao arrivederci grazie a tutti grazie a tutti